Sono i miei ripetuti richiami, ma tu li scambi per malesseri umani. Finalmente ti sei decisa a prendere la penna per scrivere le piccole esperienze e constatazioni che io riesco a capire. La vita che sto conducendo non è facile da descrivere. Sto vivendo e ho molte sensazioni gioiose, ma noto che ogni esperienza è diversa dall'altra. Come siamo diversi da umani, così anche se in un altro modo lo siamo anche in questa dimensione. Ognuno ha un proprio percorso, con le sue regole da rispettare in piena libertà. La pace e l'armonia che si respirano ti rendono il vivere armonioso. Come un fiore che si sfoglia sono cadute tutte le ambasce umane. Quando mi sono reso conto di non avere più il corpo, mi sono sentito spoglio, ma libero e un po' d'angoscia l'ho provata, ma è stato solo per poco. Dovevo vivere integrandomi nella nuova vita ed essere felice della leggerezza che avevo acquistato. Non ti nascondo che ho avuto momenti di smarrimento in cui mi venivano dubbi e incertezze, ma poi tutto è passato. Non c'è fretta di prendere decisioni, tutto scorre tranquillo e dopo essersi inseriti bene nel nuovo movimento, tutto diventa sempre più facile. Sai, ognuno vive la sua vita senza pensare ad altri, senza nessun paragone e nessun confronto. Vivi secondo i tuoi sentimenti e cerchi di camminare sempre diritto sulla tua strada. Io sento che tu vorresti qualche esempio, vorresti che ti parlassi di movimenti, di come è la vita qui, ma non posso anticiparti niente perché la tua mente registrerebbe cose diverse da quelle che dico. Ricordati che la legge è amore e con l'amore tutto cambia. Un amore puro come è pura l'aria che si respira. Nessuna domanda. Non potrei risponderti perché il cammino cambia da essere ad essere e tutto si muove in perfetta armonia. Ti ringrazio dei tuoi pensieri e ti saluto. Ti ringrazio dei tuoi pensieri e ti ringrazio dei tuoi pensieri e ti saluto. Grazie a tutti.